Lo studio LODES II ha utilizzato l'oncastruzione a Mattei Sirena per valutarne in un contesto registrativo l'efficacia e la tossicità. Il LODES II ha utilizzato l'oncastruzione a Mattei Sirena, un anticorpo coniugato a un farmaco citotossico molto potente, la pirrolobenzodiazepina, ed è un anticorpo rivolto a bersagliare l'antigene CD19. È stato sviluppato e registrato nei linfomi diffusi a grandi cellule B, rigaduti o refrattari. LODES II è uno studio che ha ruonato 145 pazienti con l'infoma diffuso a grandi cellule B rigaduto o refrattario. Questi pazienti avevano alcune caratteristiche peculiari. Primo, erano molto precrattati, il numero mediano di linee di trattamento era 3, che nel contesto dell'infoma diffuso a grandi cellule B e un numero di linee di trattamento molto elevato, quindi molto pre-trattati, ma anche molto refrattari. Il 60% di questi pazienti aveva fallito l'ultima linea di trattamento e a questa refrattarità si aggiungevano come caratteristiche a prognosi severa, il fatto di contenere 20% di pazienti con l'infoma di LBCL trasformato da un precedente follicolare e c'era anche un 10% di pazienti con un genotipo Naborit triple I. Quindi una tipologia di pazienti rigaduti o refrattari nei confronti della quale molto spesso oggi anche i farmaci più potenti non sono in grado di esercitare un effetto particolarmente efficace. I pazienti prognati nell'OTIS II hanno ricevuto l'oncastruxia abteserin ogni tre settimane a una dose che è quella raccomandata per gli studi di fase II di 150 microgrammi chilo per i primi due cicli e per i successivi dal terzo ciclo in avanti 75 mg chilo. Il farmaco veniva somministrato per al massimo un anno. In termini di efficacia, la risposta globale a risposte parziali e a risposte complete era del 48%, con 24% di risposte complete e 24% di risposte parziali. Questa risposta si otteneva rapidamente già dopo i primi due cicli di trattamento nel momento in cui veniva fatto il primo assessment della risposta al farmaco si esprimeva e vinceva quella che sarebbe stata la risposta finale. Quindi è un farmaco potente nell'azione e rapido nell'esplodare questa azione. Per quanto riguarda la durata delle risposte i dati conclusivi sono stati pubblicati nel corso del 2024 con un follow-up di due anni e questi dati mostrano chiaramente come se si considera la popolazione complessiva dei 145 pazienti la durata mediana della sopravvivenza libera da progressione è di 5 mesi mentre la sopravvivenza globale sempre nella popolazione globale la sopravvivenza globale è di 10 mesi. Se noi consideriamo solo i pazienti che hanno ottenuto una risposta completa la progression-free survival mediana e l'overall survival mediana non sono state raggiunte. Quindi dati di efficacia, direi di particolare interesse proprio alla luce del fatto che la popolazione lavorata nello studio era altamente pretrattata è altamente una refrattaria. Alcuni sottogruppi di pazienti arruonati avevano una particolare sensibilità all'azione del farmaco per cui per esempio i pazienti da bolitta avevano una percentuale risposta completa del 33%, quindi maggiore della percentuale risposta completa nella popolazione complessiva che riguarda il 24%. Un'altra sottopopolazione ad alto rischio con una risposta interessante è quella dei linfomi trasformati dove il 24% otteneva una risposta completa. Ovviamente questi sono dati degli analici sottogruppi che non hanno dei numeri particolarmente alti ma sono suggestivi di una particolare efficacia del farmaco. Un dato di efficacia particolarmente interessante viene anche dall'aver analizzato i 36 pazienti che hanno ottenuto una risposta completa con un follow-up di due anni e a due anni 11% di questi pazienti cioè il 41% della popolazione che ha ottenuto una risposta completa è ancora vivo in risposta completa e quindi privo di malattia. Questo dà un'idea del potenziale guaritivo di Longcastruxia abtesirina. Relativamente agli effetti colaterali mi eviterei a dire che sono effetti maneggevoli sia in termini di tossicità cutanea sia in termini di tossicità epatica che poi si limitava e si limita nel 15-20% che hanno tossicità epatica si limita a un incremento delle gamma GT che è più un dato biochimico che non un dato funzionale. Grazie a tutti.